Sindaco Rosario Caruso, finalmente Serrara Fontana ha un campo, ha una struttura sportiva e tra l'altro a quanto riusciamo a vedere ha anche la fortuna di avere un campo panoramico che non è cosa che si vede tutti i giorni. Un commento su questa opera realizzata che come amministrazione avete auspicato da diversi anni? Siamo estremamente contenti e soddisfatti di aver inaugurato questa struttura sportiva dedicata ai bambini. Da quando ero piccolo i grandi ci dicevano che realizzeremo una struttura, realizzeremo qui, realizzeremo lì ma nel frattempo andavamo a giocare per la strada o nei campetti questi qua privati. Poi ci abbiamo messo tempo, siamo diventati grandi e abbiamo pensato ai più piccoli. Abbiamo realizzato questa struttura dove sono sicuro i bambini trascorreranno dei momenti di gioia, di spensieratezza, di allegria. Finalmente è diventata una realtà questa struttura. Sono certo che i bambini potranno praticare sport e lo potranno praticare in un luogo bello, accogliente e anche strutturalmente molto ben fatto. Sindaco, quali sono le prospettive? Come pensate di gestire il campo? Ha già annunciato che si sta cercando un affidamento. Quali sono le idee? Perché poi realizzare le opere è semplice, ce lo dicevamo prima, poi però bisogna custodirli. Hai pienamente ragione. La cosa più complicata è la gestione. La struttura è una struttura complessa. Si compone di un parcheggio sottostante con 22 posti auto e abbiamo gli spogliatoi, depositeria e poi qui c'è il campo con anche dei giochi per i più piccini, oltre per chi deve praticare il calcetto, il tennis, anche dei giochi per i più piccini. L'idea di cui stiamo parlando è quella di tenere separata la gestione del parcheggio dalla struttura. Il parcheggio è riservarlo a chi viene per sbrigare le pratiche al comune e per chi deve venire sul campo poi la sera a giocare. Mentre, e quindi lasciandolo, diciamo, tra virgolette, libero, mentre il campo pensiamo di darlo in gestione con un bando, ovviamente, un'evidenza pubblica per un periodo di 6 più 6. Prevederemo un prezzo non particolarmente alto perché ci vogliamo riservare delle ore a settimana da poter destinare o alle parrocchie o alle associazioni, cioè dare la possibilità magari a qualche associazione sportiva che nasca sul territorio di poter venire qui, allenarsi e poi partecipare a dei campionati, oppure al parroco che organizza i giochi in parrocchie di poter utilizzare la struttura in modo gratuito, ovviamente in determinate fasce orarie. Ecco, Sindaco, al di là di questo, insomma, abbiamo parlato anche del parcheggio, dell'aspetto panoramico, in effetti sarebbe bello anche che si creasse del movimento, ma questo aspetta più forse alla cittadinanza che all'amministrazione in sé, cioè creare magari un'associazione sportiva e degli eventi che possano spostare un bel flusso di persone da Ischia a Serrara e rompere un po' questo luogo comune, come si dice, e chi ci arriva fino a Serrara? Certamente, questo lo auspichiamo con estrema fiducia. Confidiamo che possa nascere un'associazione sportiva, ricordo che abbiamo avuto a Serrara, un gruppo di giovani che è stato in grado di vincere il campionato nazionale, quindi di calcio a 5. Quindi auspichiamo proprio questo, che possa nascere un'associazione sportiva e possa iniziare ad aggregare famiglie, giovani, ragazzi e venire qui a praticare sport, in modo tale che questa struttura diventi un attrattore, un attrattore non solo per i ragazzi del nostro territorio, ma un attrattore anche per i ragazzi delle altre parti dell'isola, come dicevi giustamente tu, si possono organizzare delle manifestazioni, dei tornei, si può pensare a fare dei gemellaggi con altre realtà e fare dei meeting in estate, in primavera, cercando di creare un vero e proprio movimento attorno a questa struttura. Questa struttura nasce per i ragazzi, quindi vogliamo che i ragazzi la utilizzino e la sfruttino nel modo più intenso possibile. In chiusura, Sinaco, sull'inaugurazione è stata una bella giornata, un bel pomeriggio, tanti ospiti, Gianni Sasso, Cadenina Mattera, insomma anche altri, subito avete potuto respirare entusiasmo qui a Serrara. Sono stati vari momenti belli del pomeriggio di sabato. Il primo momento bello è stato che il calcio d'inizio, il primo calcio al pallone su questo campo, l'ha tirato un giovanotto di 88 anni, il parroco di Sant'Angelo Don Vincenzo, che è un appassionato di sport. L'altro momento bello è stato che la prima partitella l'hanno fatto i bambini di dieci anni del nostro territorio e poi c'è stata la partecipazione, oltre che dei colleghi sindaci di Ischia, di Barano e di Forio, e anche autorità militari, c'è stata la presenza di tre sportivi, di tre campioni, che sono Gianni Sasso, Ciannangelo Iacono e Caterina Mattera. Io ripeto quello che ho detto sabato pomeriggio, per me queste tre persone sono degli esempi, degli esempi positivi che noi dobbiamo appunto indicare ai più giovani, esempi positivi per impegno, per dedizione, per passione, per spirito di sacrificio. Ecco, quello che ho augurato ai nostri bambini, a tutti i ragazzi dell'Isola Dischia è quello di diventare anche loro degli esempi positivi come sono i due Gianni e Caterina, perché se diventeranno degli esempi positivi per altri giovani, per altri ragazzi, vuol dire che sono diventate delle persone eccezionali.